Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video un po' diverso dal solito. Sono qui con il mio trolley che oggi mi aiuterete a riempire per il mio weekend, la cui destinazione per voi è ancora top secret, a meno che non mi seguiate su Facebook, Instagram o Twitter. Parto appunto per giusto un weekend, non sono purtroppo una che è abituata a viaggiare leggera, chi mi ha accompagnato in qualche viaggio lo sa, in genere mi porto dietro più o meno il mondo, ma cercherò di far stare tutto dentro al trolley. E adesso ci spostiamo sul letto e vediamo che cosa ho preparato per voi e soprattutto poi se starà veramente tutto nel trolley. Eccoci qua sul letto e andiamo a vedere che cosa c'è nel mio trolley per questo weekend. Allora, un paio di pantaloni pesanti più due paio di pantaloni corti e leggeri, visto che è estate qua. Quelli pesanti penso che li userò per il viaggio, quindi non vanno nel trolley e li mettiamo da parte. Due t-shirt più una canotta di quelle lunghe e una t-shirt è per il viaggio, quindi anche questa la spostiamo. La canotta la userò probabilmente come pigiama e anche la felpa penso che la metterò per il viaggio, visto che in aero fa sempre freddo con l'aria condizionata a palla. Poi qui abbiamo asciugamano in microfibra, che si asciuga subito e occupa pochissimo spazio. Due reggiseni, di cui uno per il viaggio e uno nel caso dovesse servirmi come ricambio. Quattro paia di mutande, anche qui uno per il viaggio. Due, un costume, se dovesse servirmi, visto che l'ostello ha l'idromassaggio, potrei anche approfittarne. E tre paia di calzini, uno leggerissimo e gli altri due un po' più pesanti in scala. Penso che tipo userò questi per il viaggio e quindi anche questi li togliamo. Poi qui abbiamo i due beauty, questo qui è quello trasparente con tutte le cose liquide, un bagnoschiuma, shampoo, poi vabbè il burro cacao, crema idratante, il correttore, il dentifricio. Qui abbiamo due boccette di fermenti lattici, perché anche lì non si sa mai. La tachipirina, il moment e fazzoletti disinfettanti, diciamo così. Mentre in quest'altro abbiamo tutto quello che non ci stava lì, quindi spazzolino, deodorante, la spazzola. Poi qui abbiamo lettore mp3 dell'anteguerra, probabilmente, ma funziona da dio. Più il mio tachuino, dove mi segno tutte le cose. Insieme al tachuino ci va l'astuccio, con penne, pennarelli, pastelli, matite. Qui dentro c'è l'hard disk esterno, più tutta la cavetteria, quindi cavetto per ricaricare il cellulare, adattatore e la batteria esterna. Qui abbiamo poi l'ombrellino, selfie stick e cavalletto di quelli leggeri, che è leggerissimo, di quelli che si modellano così. Importantissimi da non dimenticare, i documenti del viaggio, il passaporto e i soldi. E per finire, la macchina fotografica. Con il suo case, batteria di riserva, più anche la memoria di riserva, perché ho in programma di fare parecchie foto e parecchi video. Due paia di scarpe, questo qua verde è quello impermeabile, mentre queste qua sono le più comode che ho da ginnastica. Penso che userò queste qui verdi per il viaggio, solo perché sono quelle che occupano più spazio, quindi anche queste le togliamo. E poi qui abbiamo il mio zaino, comprato qui in Australia, e il trolley dove dovrà stare tutta la mia roba. Speriamo che ci stia, quindi vediamo. Speriamo che ci stia, quindi vediamo. Speriamo che questo video vi sia piaciuto. Nel trolley ovviamente c'è stato tutto, non pensavo in realtà, ma sono stata brava. Avevo dimenticato l'infradito, ma ho rimediato perché mi sono accorta di aver lasciato in giro per la camera. Spero di non aver dimenticato nient'altro, in ogni caso ho tempo per pensarci bene. Detto questo vi lascio, vi do appuntamento al prossimo video. Vi ricordo di seguirmi sia su Facebook che su Instagram, e poi anche su Twitter se volete, anche se lo uso molto poco. In ogni caso in descrizione avete i link a tutti i miei social. Mettete un mi piace se il video vi è piaciuto. Commentatelo, magari scrivetemi sotto se ho dimenticato qualcosa, così magari lo aggiungo. Condividete il video, ciao!